La chiesa Sacro Cuore di Foggia gremita di familiari, conoscenti e amici, riuniti per l'ultimo saluto a Giampi, come tutti chiamavano Giampiero Angelini, il 17enne morto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica scorsi. La sua vita è terminata contro un albero a bordo di un'autovettura che non avrebbe potuto guidare in quanto minorenne. Una tragedia che ha profondamente scosso l'intera comunità foggiana. All'uscita del feretro, lo strazio inconsolabile dei genitori, l'incredulità dei compagni di classe della quarta B dell'Istituto Tecnico Pascal, che tra pochi giorni avrebbero riabbracciato Giampiero per iniziare insieme l'ultimo anno scolastico e diplomarsi. Molti ragazzi indossavano una maglia con la stampa della foto del loro amico scomparso. Ci si incontrerà ma non tutti, ha detto nell'omilia il vice parroco Don Antonio Campo, perché un banco resterà vuoto, perché i tuoi 17 anni sono quelli di tanti che vogliono spiccare il volo, anni turbolenti in cui molti di noi volevano uscire da paletti o schimi. Ma la vita è altro, molto di più. Noi adulti, ha proseguito Don Campo, abbiamo bisogno dei giovani, delle loro domande e abbiamo bisogno di essere aiutati a voler loro bene, a far qualcosa che li faccia star bene. Metterci in gioco tutti quanti perché certe storie non sono più ammissibili. Sul fronte delle indagini intanto la polizia locale sta compiendo tutti gli accertamenti per comprendere l'esatta dinamica dell'accaduto e soprattutto capire come mai il ragazzo fosse alla guida di un'autovettura senza patente. Ai fini della ricostruzione potrebbero rivelarsi utili le immagini della videosorveglianza presente nella zona dell'incidente.